Lutto ad avanti un altro è morto Emanuele Vaccarini, uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il 44enne era molto conosciuto perché interpretava il gladiatore e faceva parte del cast del programma dal 2019. Non sono state rivelate le cause del decesso anche se secondo le ultime notizie diramate da alcuni media Vaccarini recentemente avrebbe avuto alcuni problemi di salute così e aveva scritto sui social.